Il turno è in discesa? Beh, in discesa diciamo che probabilmente ci conviene tante volte andare sotto nel risultato anche se fino a quel momento lì abbiamo fatto una buona partita nella prima occasione ha trovato un gran gol da 40 metri però la partita si stava incanalando nel berreno giusto mi è piaciuta la reazione dei ragazzi non si sono demonizzati era diciamo una chiamata un po' alle ultime due prestazioni che abbiamo fatto in casa soprattutto i 90 minuti con il Ginatese e il primo tempo contro la settimana scorsa contro il Cinisello abbiamo reggito bene, una squadra vogliosa abbiamo detto che deve ancora imparare a stare un po' in campo oggi sono stati utilizzati alcuni giocatori anche fuori ruolo però hanno dato il loro apporto alla causa si sono fatti trovare pronti e poi il risultato è stato anche frutto di alcune giocate sicuramente il fatto di avere anche Lanzotti dall'inizio ci ha aiutato tantissimo oltre ad avere la presenza di qualche giocatore sceso dalla prima per mettere il minottaggio nelle gambe sabato abbiamo il Mariano quindi è un'altra storia sabato sì, ogni partita l'abbiamo visto è il campionato dove forse l'unica squadra è il Bisnova perché comunque si sa che il settore giovanile tra il 2003 e il 2002 l'anno scorso e il 2001 che sono rimasti è una buona squadra, è l'unica che fino adesso ha fatto bottino a pieno ha sempre vinto mi sembra meritatamente senza nulla togliere le squadre che ha battuto Mariano è capire l'incognita di queste categorie qua e capire quanti giocatori vengono mandati giù di volta in volta dalla prima squadra l'Ulginatese contro di noi ci ha fatto veramente girare la testa la settimana scorsa, anche merito magari del Mariano, si sono fatti battere in casa perciò dobbiamo andare sempre in campo come se fosse l'ultima partita della salvezza e poi se gli avversari saranno più bravi di noi, avranno qualcosa di loro cioè di noi, li faremo i complimenti una partita è una battaglia ogni partita è una battaglia, bisogna costruire la casetta mattoncino per mattoncino vediamo, vediamo pian piano grazie e complimenti grazie, ciao grazie a tutti grazie a tutti